Bentornati, fratelli di tuberanza, in un nuovo episodio su Marvel, Ultimate Alliance 3, dove è arrivata la resa dei conti. In teoria stiamo per affrontare Thanos, con tutte le gemme dell'infinito insieme al suo famosissimo guanto. Ora, prima di iniziare ho bisogno di un bel pollicione all'insù per trasmettermi la vostra energia, perché raga, ne avrò estremamente bisogno. Black Panther, Venom, Hulk e Deadpool, questo è il Dream Team, i Fantastici Quattro, daje. There is no escaping destiny. Your fate is written in the stars. If it is... Wow, io dico solo wow. Allora, fatemi capire. Quanto forte è? Urca vacca. Lo devo studiare un attimo raga, mi sto studiando un attimo le sue mosse, eh. Porca miseriaccia Thanos, raga. Eh, mo' c'ha tutte le gemme, eh, eh. Stordito. Vai raga. Oh. Mizidialo. Avete visto? Mi ha bloccato. Eh, raga, è fortissimo. Devo stordirlo di nuovo. Ok. Dai, 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 raga. Sì, 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 sì. Dai, 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 dai. Buono, 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 buono. La ulti è carica. La ulti è carica. Porca vacca! Eh, vabbè, ho capito. Ma ha tolto 3000, ma ha tolto. Vabbè, lo soccorro. Aspettate che lo rimbambisco. Sì, adesso. Tutti. Che che manca? Ah, ok. Via, 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 dai, da lì. Allora, male gli abbiamo fatto male. Su quello non ci, non ci, non ci piove. Cavolo. Ok, dovrei essere a riparo. Più o meno. Vai, Black. Sì. Mamma mia, se mi ci sta più a bene, raga. Mamma mia, sto boss finale se mi sta prende bene. Sono contentissimo di aver messo in squadra Black Panther, raga, perché lui è estremamente agile. Ma sto rito. Porca mamma del gallo. No. No. Stordito. Ancora, vai, 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 vai. Ancora, 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 di brutto, di brutto, di brutto. Mena, 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 mena. Uh, via, 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 via. Porca miseria, sta mossa fa malissimo. Eh, dai. Via. Eh, non mi sono scansato in tempo. La mossa più forte sua è quella del raggio, raga. Se riesco a sfuggire a quella, siamo tranquilli. Mazza se sta piazzambate. Mamma, che dolore. Mamma, che dolore che gli stiamo facendo io. Va bene. È fine, è fine, va bene. Ok, non mi devo muovere. Perfetto. Ecco, questa è la mossa quella più forte. No. No. Ci siamo quasi, eh. Siamo quasi. L'ho perso di nuovo, raga. L'ho perso di nuovo, Blackie. Abbiamo ancora due res. Va bene, va bene. Fine. Restiamo anche Hulk. Non può rischiare lui. Guarda quel bastardo come gli stella vicino. Eh, vabbè. Eh, raga. È andata. Ritratemi lui. Resisti, Daddy, eh. Vabbè, la faccio così. Come va, va. Sì. Questo non è come si è finita. No, eh. Non fa scherzi, compà. C'è qualcosa che io posso dare. Tu hai tutto scato, figlio. Ah, ma tu è vero all'alonga, miei amici. Io non sono mio padre. Io sono qualcosa di molto meglio! Cosa cazzo? L'ho appena visto! Cosa? Cosa hai fatto, figlio? Cosa tu mai potessi, padre? Cosa cazzo! Cosa cazzo! Io vieno! Non hai bisogno di fare questo, Thane! È finito! Thanos è vissuto! Quindi, come se ti prendi questa armata stocca, e possiamo parlare questo? Non più parlare! Hai capito! Hai capito! Ma se ti aspettate a credere, sei più più da Thanos, perché hai fatto un'altra città! Non hai bisogno di credere! 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 Tu non hai bisogno di credere! Il centro dell'universo! La prima esperanza delle faccate. Il Harano l'infinità inferno! C'è meglio che il posto in cui tutte le cose cominciano, è dove la tua existenza patetica finalmente arriva alla fine. Questo universo sarà mio solo per destruirlo, figlio Ancora se devo salvare da te prima Ok, adesso sono confuso Quindi Tane che prima stava con noi, adesso è contro di noi Thanos che prima era contro di noi, adesso sta con noi Vi prego aiutatemi a capire Questo che mangiamo ha fatto, liberami Ok, ragazzi fategli male Ragazzi fategli male Ragazzi fategli un male incredibile Demolitelo Fatto bene, non mi è colpito, stupido Boom Ragà, guardate la resistenza È una bomba Un cristallo azzurro Ok Va bene Va bene, va bene Tane Non ci fai paura Porca vacca che danni che fa, raga Quello è il raggio che c'era prima Thanos fa malissimo Ok, è andato Voglio, voglio, voglio il dolore Voglio che gli fate un male incredibile, raga Ma come siamo messi, oh Che fa? Che ha fatto? Guarda, se vi devo dire la mia A me Thanos mi sembra che era un po' più forte Non me la vorrei tirare, sinceramente Cioè, non me vorrei tirare la sfortuna addosso Però No Oh Con il simbionte Ok, sono dei Tane Più scassi Va bene Va bene, va bene A prezzo, a prezzo, a prezzo Magari mi droppano anche un po' di vita Un po' di roba Un po' di magia Sì, sì, a GG Dove sei? Dove stai? Coniglio Pezzo di coniglio No, raga Mi ha intrappolato Guardate qua Ma mi liberi? Raga, avete visto quanto male mi fa? No, è infattibile Infattibile, infattibile Ho quasi perso Il mio amico Ciao Eh, vabbè, Black è andato Lo rianimiamo Non mi rompete Devo rianimarlo Grazie Qua ci vuole la mossa sua Zang Fortissimo Zang Ridami lui Che è? Che è? Che è? Ancora Ma Ma mi molli Mamma, raga È fortissimo Porco demonio Porco demonio Ti salto in testa Ti piego Mo lo perdo un'altra volta Io lo so Raga, non mi fa fa la mossa Vi prego, ragazzi Uccidetelo Uy, ho fatto mille Dai, 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 dai Che è andato Addio Ma quanto malevato, raga Vi prego, ditemi che non scherzo Che adesso compare la scritta Se tu scherzi a parte Questo boss Questo boss non è mai esistito La vita Sì La vita Ah, mamma, mi sta da Le sberle nere Mi sta da Bravi Bravi così Va bene, va bene, va bene Lo rianimiamo di nuovo Dai, dai Ho ancora due Due res Mi sta bene Dai, ragazzi Ci siamo quasi Sì Level up anche per black GG GG Che cosa No, non è vero Bucciardi No, raga Non è vero No, raga Non è vero Non possono Non possono Reservare questo Questo errore Perché questo è fortissimo Annaggia la miseriaccia Tutte e quattro Te la voglio fare Il pezzo di schifo Sì Sì E mori i mani Mori i mani giù Che cosa hai fatto con me? Tu hai fatto questo per te stesso, ragazzi A seconda che credi che tu potessi surpassare me Tu fai è scoperto Ma la armatura Esa armatura è una cura, molto più potente per qualsiasi morti per contenere. C'è un motivo per cui ho deciso di prendere solo uno di loro bambini. Tu... conosci? Ovviamente. E più importante, io conosci meglio. Dobbiamo fare qualcosa. C'è nulla cosa che può essere fatto. C'è solo un ragazzo. Un ragazzo, che cercano di essere un dottore, e scontriva. Ma... magari non siamo così diversi, dopo tutto. Cosa stai adesso, tyranti? Cosa che dovrei fare molto tempo. A me... Sì, padre. Io prendo il nostro dolore. Cosa stai? E quindi... Cosa stai adesso? Cosa stai cobrano? Cosa stai adesso? E quindi, penso che ci si spaventiamo pure... Cosa stai da ora. Se non so nessuna cosa, io posso dire che sempre si trovi di volta. Anzi? Cosa stai scoperto? Ah Hands off ugly You're under arrest by authority of the Nova Corps You and your black order buddies are gonna spend the rest of your lives in the kill for what you've done It looks like your boss won't be around to break you out this time Thanos and Thane may be out of play But the stones are not And as long as they're still together the threat they pose is too great Then we split them up We hide them on opposite ends of the universe Or even beyond it if we can And we don't ever tell each other where they are And sure Some cosmic jerk will eventually find a way to reunite them But We'll be making it a whole lot harder And maybe Just maybe It'll buy us enough time to figure out how to stop these crazy things for good And if not Well We can always do this whole team up thing again, right? No No lighter а Ragazzuoli, io che cosa vi devo dire? Che cosa vi devo dire? Ho la pelle d'oca per questo finale estremamente stupendo. Ora, io ragazzuoli voglio ringraziarvi veramente tutti dal primo all'ultimo per aver supportato questa serie. Non è andata poi così benissimo come mi aspettavo, ma comunque ci tenevo a portarvela tutta dal primo all'ultimo episodio. Mi aspettavo che fosse più corta e invece ha superato le mie aspettative sotto ogni punto di vista. Lunghezza, qualità, storia, cioè sotto ogni punto di vista veramente raga. Tanta tanta roba. Ora, ci sarebbe da fare l'espansione, ma io probabilmente raga non la farò su YouTube. Per lo stesso motivo che vi ho detto poco fa. La serie mi è piaciuta tantissimo, ma non è andata bene tanto quanto mi sarei aspettato. Perciò, se volete l'espansione è già disponibile, potete acquistarla nello store Nintendo, eccetera, eccetera. Ma per oggi, signori, è veramente tutto. Noi ci vediamo con il prossimo video. E vi giuro che dopo questo inizierà una nuova serie. Una serie estremamente richiesta e ricercata e totalmente assente su YouTube. E ve la porterò io. Noi ci vediamo con i prossimi video. Sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao! Ciao!